Ciao a tutti, sono Mr. Thrive and Survive ed è il 18 marzo 2018. Andiamo a vedere una delle più grandi palle della storia della nostra vita. Continuerete a voler credere che siamo andati sulla Luna solo per questo singolo esempio che vi voglio dare. Poi meritate di controllare voi stessi in qualche ospedale per vedere come liberarvi dalla dissonanza cognitiva. Quindi oggi quello che andiamo a vedere è osservare il semplice sistema di trasmissione del segnale televisivo del modo in cui l'hanno fatto nel 1960, nello stesso modo in cui la NASA ammette di aver fatto. E vedremo come è impossibile sistemare ogni tipo di antenna sulla Luna ed avere una trasmissione verso la Terra con l'uso della potenza che avevano allora. Poi torneremo su questo lasciandovi il link di tutto questo materiale sotto nella descrizione. Quindi per farlo velocemente saltiamo dentro alla prossima sezione. Ora, fin tanto al pubblico piace usare Wikipedia perché è la verità di Dio in Terra, andiamo ad usarla e troveremo altre fonti esterne di quello che ho trovato sullo spazio ed altri posti ed ancora vi ricordo il link sotto. Andiamo a vedere la televisione analogica perché questo è come venivano trasmessi segnali televisivi probabilmente fra le missioni Apollo e... Andiamo a vedere in particolare la potenza. Ora, se diamo un'occhiata qui, c'è stato un presunto incidente sull'Apollo 13. Quindi hanno incrementato presumibilmente le batterie su tutti quelli che hanno seguito questo modello ma non andiamo a vedere allora l'Apollo 13 ma prima perché abbiamo avuto l'Apollo 11 e il 12 dove hanno fatto un sacco di trasmissioni dalla Luna e non voglio nemmeno entrare dentro al fatto che la Luna in quel momento ruotava, la Luna ruotava e che si muovevano congiuntamente fra loro. Non voglio commentare questo qui ma c'è una parte che dice che non c'era alcun problema per le fotocamere perché anche quando stavano filmando, mentre il modulo lunare scendeva o si muoveva nello spazio o gli astronauti erano in superficie, si muovevano abbastanza lentamente così non si frammentavano le immagini e cose del genere perché avevano una maniera per ridurre il segnale ad una banda molto stretta e questa è una palla tecnica per cercare di aggerare il fatto che non avevano abbastanza potenza per trasmettere quello che avevano sulla Luna anche a 15 metri probabilmente ma la gente vuole credere che siamo andati sulla Luna, dalla Terra abbiamo parlato di ciò, pensate a questo abbiamo trasmesso via radio avanti ed indietro da Houston con gli astronauti e gli astronauti potevano parlare uno con l'altro e potevano sentirsi uno con l'altro avevano trasmettitori, ricevitori, microfoni e tutti quanti avevano bisogno di energia questi astronauti che si trovavano sulla superficie della Luna presumibilmente con i loro interi zaini o gran parte di essi che serviva per l'ossigeno ma dove si trovavano le batterie che stavano usando? e queste sono cose che vi sto lanciando gente affinché possiate aggiungere altro a quello che ho già fatto qui quindi adesso LM sta per modulo lunare questo è quello di cui ci stiamo occupando perché quando il modulo lunare si trovava sulla Luna non era collegato al modulo di servizio che si presume attendeva orbitando attorno per il loro ritorno e ci dicono come era progettato il sistema elettrico e immaginate una cosa nessuno di loro ha mai accennato a come veniva alimentata la stessa antena riuscite a credere a questo avevano un totale di 65 kilowatt per ora con un massimo di 4 kilowatt per una durata di 35 ore sulla Luna quindi fate una verifica di questo non potevano usare più di 4 kilowatt che sono 4000 watt di potenza o avrebbero finito l'energia prima di ripartire e voi sapete che non dovevano arrivare a trovarsi in riserva di energia prima di partire credete? è qui il sicario siete pronti per questo 28 volte di corrente continua 28 volte di corrente continua arrivano da due trasformatori che la convertono dall'alternata possono dirvi che anche dieci anni fa questi inverter che siamo abituati ad avere erano molto meno efficienti rispetto a quelli che abbiamo adesso Dio solo sa quanto erano scadenti alla fine degli anni 60 ma diciamo che erano estremamente efficienti anche più efficienti di oggi infatti non consideriamo alcuna perdita di potenza passando attraverso il trasformatore come è possibile? e non vado a considerare nemmeno alcuna perdita di potenza attraverso i cavi non considero alcuna perdita di potenza per la trasmissione in aria o senza l'aria non so cosa stiano trasmettendo immagino non abbia alcun ostacolo ma dalla superficie fino al modulo lunare attraverso l'antenna e poi fino alla terra e poi di ritorno dalla terra al modulo ma non teniamo conto nemmeno di questo in origine questo è quello a cui stiamo guardando era stato progettato per tre celle di fornitura di potenza e poi ne hanno aggiunta una dopo l'Apollo 13 così potevano avere più energia bene quando guardate lo schema mostratemi dove avevano lo spazio per sistemarle sui piccoli moduli lunari che avevano costruito in anticipo pertanto non li hanno rifatti nuovamente ecco qui quello a cui stiamo guardando qui c'è la cosa più importante proprio la discesa del modulo lunare ci sono tre differenti batterie che possono usare questo il CSM è il dispositivo che si suppone orbiti la luna mentre scendono dentro al modulo lunare il modulo di servizio come è conosciuto e non possiamo nemmeno contare su qualcuno di questi perché non sono connessi col modulo lunare ora ci dicono ora ci sono due tipi differenti di batterie per la discesa del modulo lunare per la risolita siamo interessati solo a quello della discesa del modulo lunare come dicono nel link in pdf che trovate nella descrizione queste sono le uniche batterie usate per l'intero tempo che gli astronauti sono rimasti sulla superficie della luna 29 volt in totale è poco più di due batterie d'automobile gente una capacità di 400 ampere per ora non potevano usarne molto più e si trovavano a 251 gradi celsius questo durante il giorno ed erano a meno quando si trovavano all'ombra molto efficienti siamo interessati solo come ho detto ai dettagli di questa cosa non vi sto mentendo potete vedere voi stessi hanno usato solo le batterie del modulo lunare una volta che erano in superficie punto questo è il progetto di dove hanno sistemato le batterie ci mostrano che erano molto lisce e sottili proprio come dovessero scivolare dentro alla parete o d'altro ma mi piacerebbe vedere una batteria da 29 volt anche oggi ognuna con 400 ampere di potenza se può essere una piccola e graziosa cosa che scivola dentro una parete com'è che la tecnologia non ha ancora raggiunto questo per voi 65 kilowatt orari ad un massimo di 4 kilowatt per 35 ore di permanenza sulla luna significa una potenza massima della durata delle batterie di 16,25 ore questo significa che per la maggior parte del tempo si poteva usare solo la metà dell'energia totale per poter durare 35 ore ma nuovamente posso dire che tutti i 4 kilowatt sono stati usati per la trasmissione del segnale televisivo in realtà solo una frazione di questa potenza poteva essere usata a causa del funzionamento di tutti gli altri sistemi di supporto vitale compresa aria condizionata e riscaldamento sapete quanto grande una batteria per automobili è di 12 volt per nulla vicina a questo tipo di amperaggio comunque andiamo avanti ora se sapete leggere lo schema potete vedere che le batterie lunari si trovavano esattamente qui ora ciò che possono usare di più per l'antenna della superficie sulla luna che non ci mostrano è il circuito interruttore più grande che hanno diciamo come quello che avete nelle vostre case avete un'unità per l'aria condizionata che richiede 200 ampere diciamo non potete collegarla ad un servizio di 100 ampere perché farebbe saltare il circuito immediatamente o i cavi fonderebbero se non salta il circuito ecco perché ci sono gli interruttori del circuito la maggior parte delle lavatrici e delle asciugatrici negli Stati Uniti funzionano a 30 ampere o 50 ampere è così e non si possono sovraccaricare si può avere solo l'amperaggio più alto a disposizione ora qual è il più alto qui il totale sono 100 ampere ora proseguendo ogni sbarra che esce da questi differenti sottosistemi ognuno ha solo 30 ampere pertanto ciò che è disponibile sono solo 30 ampere in superficie questi 100 ampere se sapete leggere lo schema questi sono solo internamente non finiscono all'esterno ma diciamo che possono farlo diciamo che possono uscire 100 ampere verso l'antenna tutta l'energia tutta la potenza il 100% della potenza possiamo usarla per l'antenna una volta che sono là fuori ok eccoci qui la batteria lunare è un pezzo di ricambio che è stato aggiunto dopo l'Apollo 13 ma a noi non interessa questo perché si parla dell'uso dell'Apollo 11 il più famoso il primo sulla luna dell'esempio bene quindi la cosa più importante da ricordare è che avevano 100 ampere disponibili nel circuito e torniamo qui torniamo 400 ampere per ora niente nulla come potete vedere ma vogliamo vedere qualcos'altro adesso andiamo a vedere qualcosa che può riguardare tutti quanti andiamo a vedere WABC News o la trasmissione WABC vediamo WABC della città di New York che ha la sua antenna sulla cima dell'Empire State Building così non c'è assolutamente nulla sul percorso nessun terreno nessun'altra costruzione è il più alto grattacielo là oltre al grattacielo Walt's Trade Center e l'antenna guarda a sud ovest e non guarda nemmeno contro di esso quindi stiamo vedendo WABC e stiamo guardando l'analogico perché l'analogico è quello che si usava negli anni 60 e 70 e so già quello che qualcuno avrà da dire sì avevano già la tecnologia più avanti della nostra avevano già il digitale bene scostipate la vostra ignoranza dove non si possa vedere poi mostratela nuovamente pulitevi la faccia ed imparate che il digitale richiede molta più potenza dell'analogico quindi offro alla NASA qualsiasi beneficio di dubbio qui pertanto qui abbiamo la nostra ABC di New York ABC7 il canale di New York e chiunque è cresciuto negli Stati Uniti negli anni 60 e 70 sa parlando generalmente che più alto era il canale il canale regolare più alto era il 13 e poi si passava alla banda VHF no scusate dobbiamo scendere alla banda UHF per avere altri canali ma parlando generalmente questo veniva trasmesso nella banda VHF e quello che abbiamo qui voglio mettervelo bene a fuoco è la potenza che veniva usata eccolo qui il trasmettitore il trasmettitore usa 34 kilowatt di potenza sono 3.000 sono 34 volte 1.000 34.000 watt di potenza ora a che distanza si poteva vedere quando avevate il televisore analogico voglio dire a che distanza si poteva vedere forse 60 80 chilometri a 80 chilometri c'era un segnale molto nevoso e molto disturbato forse le condizioni atmosferiche erano perfette ma a 80 chilometri c'erano immagini veramente nervose ed abbiamo il beneficio del dubbio per quanto riguarda il canale 13 con la migliore tecnologia di allora con la potenza più forte che comunque non era di 34 kilowatt perché non era permesso avere così tanta potenza allora ma adesso sono 34 kilowatt di potenza dove si può trasmettere per 80 chilometri 34 kilowatt trasmettono a 80 chilometri ora c'è un altro posto da guardare qui un altro articolo di wikipedia che si chiama lista delle classi delle stazioni di trasmissione dal nord america di cui trovate il link sotto bassa potenza negli stati uniti televisioni di poca potenza negli usa vhf questi sono i canali di cui abbiamo parlato da 2 a 13 e questi sono i più efficienti non ci sono altre trasmissioni televisive più efficienti nel cielo non ce ne sono assolutamente altre che usano più potenza nessun'altra questo è il motivo per cui vhf è stato usato per i canali più importanti negli stati uniti perché erano i più efficienti non ce ne sono di altri più efficienti per le trasmissioni dei segnali televisivi 3 kilowatt video analogico questo è quello di cui stiamo parlando 3 kilowatt e quanto arriva lontano? al massimo 80 chilometri e poi si entra in tutti i tipi di sfocature le persone non lo sanno ma oggi perché tutto è digitale avete tutte queste antenne che ricevono il segnale digitale ma se vi capita di vivere da qualche parte dove hanno un segnale analogico questo è il più basso che riesco a farvi vedere 3 kilowatt che è approssimativamente quello che hanno usato sulla luna dove hanno usato ogni oncia di quella sola potenza sulla luna che poi hanno battuto con dei kilowatt quindi come è possibile che un canale televisivo sulla terra usi la stessa potenza o più 34 kilowatt non riesce ad arrivare oltre 80 chilometri in ogni caso hanno usato questo tutto quanto in vantaggio per il vantaggio della NASA 3 kilowatt arrivano a 80 chilometri e 3 kilowatt sulla luna arriva fino a in realtà sono 4 ma diamogliene un quarto in più anzi raddoppiamolo diamone il doppio 6 kilowatt diciamo 160 chilometri ma se usano il 100% della potenza non possono far funzionare l'aria condizionata il riscaldamento del modulo lunare i computer non funzionano l'ossigeno all'interno non va non si riesce a mantenere la pressurizzazione all'interno e tutto il resto delle cose i sistemi di illuminazione ed ancora nessuna perdita di potenza mentre passa dagli inverte dai vari cavi le varie cose che mi mandano a pezzi c'è un'immagine che se la trovo ve la metto qui che mostra una fotocamera all'esterno con i presunti 251 gradi celsius di temperatura al sole che ha un rivestimento di plastica normale attorno ai cavi e che è collegata che è assolutamente pazzesco credere a queste cose comunque raddoppiamo la potenza diamo 160 chilometri molto più di quello che potevano possibilmente usare sul modulo lunare e che cosa ci hanno detto ci hanno detto che solo 4 kilowatt se avessero usato l'intero massimo totale rischiando di non essere in grado di decollare sarebbero stati in grado di trasmettere 384 mila chilometri e non c'è solo questo perché la luna si muoveva la terra si muoveva per tutto il tempo tutto quello che hanno fatto è stato uscire e sistemare l'antenna che puntasse diritta nel cielo non c'era alcuna rotazione dell'antenna e nulla di simile guardate qui l'antenna che punta diritta in su quindi per tutto il tempo il modulo lunare oscillava muovendosi avanti e indietro in questo momento è piegato di fianco e sta ruotando attorno ma non ha mai perso il segnale con la terra ma dai siete seri? no siete veramente pazzi se pensate che 4 kilowatt possono trasmettere a 384 mila chilometri con un'antenna che non ha mai puntato diritta su Houston e se lo ha fatto è stato solo per qualche minuscolo secondo non si è mai e non è mai stata ruotata gli astronauti l'hanno lasciata così per l'intera permanenza assolutamente una cosa folle non siamo andati sulla luna gente sveglia bene ragazzi cerchiamo di vedere alcune immagini di 4 differenti fotografie sappiamo che ci hanno presi in giro una volta eravamo ingenui una volta e in realtà ci hanno fatto il lavaggio del cervello per credere comunque nel nostro governo e se avete visto video di altre persone ricordate che esistono video con i messaggi subliminali che abitualmente ci passavano per credere nel governo e cose simili addirittura nell'inno nazionale quando le stazioni televisive smettevano la trasmissione alla notte comunque sotterrate il vostro orgoglio e semplicemente osservate quello che stiamo per vedere 251 gradi celsius trasformateli pure in fahrenheit questi sono dei cavi di plastica normali che vanno alla fotocamera non preoccupatevi ne abbiamo una migliore qui la vediamo da vicino osservate questo cavo di plastica che entra qui e qui di fronte abbiamo questo questo non è nemmeno rivestito e qui potete vedere l'intero cavo avvolto attorno quello che scorreva per tutto l'esterno assolutamente pazzesco osservate questa cosa quanta potenza pensate consumava questa cosa oh amici miei la tecnologia eh sì 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 e guardate questo vi faccio vedere questo per un paio di motivi il primo guardate questo foglio qui carta stagnola chi lo sa come faceva a sostenere quelle temperature ma qui c'è una cosa che mi fa impezzire osservate l'appoggio c'è più sabbia qui rispetto a quando è atterrato sulla luna la famosa immagine che una volta atterrata non c'era un granello di sabbia nessun cratere sotto sotto al motore ragazzi sotterrate la vostra ingenuità per favore non siamo mai andati sulla luna prendetevi cura gente e un'ultima cosa non potevano essere in grado di atterrare con questo mai al 100% avrebbero fallito se atterravano con questa cosa ma adesso dicono oh bene ma sono stati in grado di farlo e chiunque è in grado di farlo svegliatevi e state bene gente grazie